Oggi andiamo a mettere il manico a questa accetta. Prima cosa, andiamo a sistemare l'asola sull'incudine. Fatto questo, prendiamo il manico che deve essere stretto e largo in punta, lo infiliamo da sopra e andiamo avanti con le mani in questo modo. Fatto questo, andiamo a recuperarci un tubo che deve essere più largo del manico, mettiamo in questo modo, facciamo scendere il tubo, teniamo dall'accetta e diamo dei colpi. Questo fino a quando non si muove più. Con un coltello andate a togliere la parte di legno che si è girata. E se volete, con un po' di carta vetro, andate a pulire questa parte. Io, personalmente, lascio il pezzo che esce per non indebolire il manico. Se volete tagliarlo, tagliate massimo un centimetro, lasciate una parte che esce e non piantate niente prima, vedrete che non si può muovere. Ciao a tutti!